Sicuramente è stata una bella emozione perché mi mancava molto il campo, soprattutto il campo della nostra città. Sicuramente senza tifosi è stata un'emozione differente, ma sono molto contento per essere tornato in campo. Sì, faceva molto caldo, sicuramente è stato un po' penalizzante, ma come per noi e anche per l'altra squadra, sarà sempre così, lo sappiamo ormai da qui in avanti. Senza pubblico è un'emozione differente perché vuoi o non vuoi i tifosi ti danno una spinta in più. Però comunque sappiamo che ormai è così e ci adatteremo anche a questa situazione. Sì, fisicamente sto bene, mi sono preparato bene per questo inizio di campionato con il preparatore Fabio, soprattutto quando sono tornato qua a Crotone. Era un po' la cosa che mi preoccupava, ma non sento nessun tipo di dolore e riesco a tenere per 90 minuti. Sì, quello è sicuramente importante perché il centrocampista moderno deve anche saper essere pericoloso in zona offensiva. Dopo sette mesi non è facile nemmeno quello, però pian piano sono sicuro che se mi troverò ancora davanti alla porta andrà magari in maniera differente. Una gara combattuta, come tutte le gare di questo campionato, prepariamo sempre le partite in modo differente, ma con lo stesso spirito battagliero. Ormai sono nove finali e una partita vale l'altra, quindi ci impegneremo come fosse l'ultima di campionato. Grazie.